Non solo un momento di festa ma anche una vetrina importante che coinvolgerà i pizzaioli provenienti da tutto il mondo. Parliamo della quinta edizione di Pizza e non solo, appuntamento dell'estate nocerina che unisce gusto, tradizione e folclore e del terzo campionato nazionale Pizza Doc. La pizza è regina delle tavole ma anche street food e cucina gourmet con tutti i più grandi chef locali. Appuntamento dal 15 al 19 luglio in via Petrosino presso l'area mercato di Nocera Superiore. La festa della pizza nel cartellone di Luceria Creativa è un appuntamento che rinnova anche una vicinanza dell'amministrazione comunale al territorio, ai prodotti del territorio. Sarà un modo per far divertire i nostri concittadini, farli vivere una serata diversa a Nocera Superiore. Pizza e non solo, quel non solo che significa? Pizza e non solo significa che ormai l'evento è diventato un contenitore che racchiude oltre alla pizza anche degli eventi correlati. Quest'anno facciamo la terza edizione del campionato nazionale dei pizzaioli il lunedì 18 luglio e vedrà la partecipazione di circa 300 pizzaioli da tutta Italia. Quindi lunedì 18 luglio Nocera diventerà la capitale della pizza. Bene, allora, ben che si sappia che a Nocera Superiore è a Nocera, il polo della pizza è stato portato nel 2007 con tanto sudore e tanto lavoro. Oggi nel 2016 ci possiamo permettere il lusso di portare 200 iscritti da tutta Italia che si competono tra di loro facendo una semplice pizza per poi portare nei propri locali e dove lì ci incontriamo tutti insieme tra passione, umiltà e tanta gioia per questo lavoro.